sto cercando un piede di porco su amazon quello originale l'ho lasciato in macchina me l'hanno fregata il motivo è molto importante perché essendo un lavoratore a partita iva siccome ho richiesto sul sito dell'inps il pin per entrare manco video funziona come il sito dell'inps questo telefono a questo punto ho detto senti anziché provare a aspettare che il sito funzioni faccio che fare lo scassinamento allora ho bisogno di sto piede di porco elettronico usb che avevo trovato su amazon però ho perso il link se qualcuno lo trova mi può mettere il link nei commenti oppure se non c'avete il link c'è direttamente 600 euro mi fate un bonifico direttamente su facebook adesso vado perché devo impastare 50 kg di impasto che ho fatto ieri per fare la pizza